malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene dicevamo nell'ultima puntata che in realtà quello che sembra essere un pensiero moderno e cioè quello diciamo dell'economia capitalistica è un modo di pensare inglese dell'impero inglese dalla fine dell'ottocento procediamo da parte dei pensatori dell'epoca questo ingresso in tali classi sulla scena economica era un problema da risolvere ci si riferisce alla classe proletaria e alla borghesia infatti l'economia non è affatto una scienza neutra e oggettiva come pretende di farci credere il pensiero neoliberista dominante da decenni al contrario ogni scelta economica è sempre opinabile soggettiva arbitraria infatti è destinata a distribuire la ricchezza prodotta e come tale non è mai neutrale rispetto alla società fermiamoci e commentiamo la pillola di oggi sto dicendo che in realtà il pensiero che vi viene presentato come moderno cioè il pensiero diciamo del capitalismo in realtà non è che una evoluzione sempre dello stesso scopo e cioè di concentrare la ricchezza in capo ai pochi che hanno da sempre controllato il nostro paese quei pochi sono stati sempre la divisione che per millenni ha governato il pianeta cioè potere religioso che diciamo era il depositario anche della scrittura del sapere e della cultura potere politico che era di fatto re l'imperatore insomma chi governava guerrieri e poi c'erano naturalmente dopo i guerrieri c'erano invece tutti gli altri cioè i proletari contadini chiamati in modo diverso nei secoli oggi chiaramente questa distinzione non c'è più apparentemente c'è nella sostanza perché con una operazione geniale dal punto di vista del marketing il pensiero unico neoliberista estero vestito che cosa ha fatto è riuscito a convincere milioni di persone di quei dogmi che vengono ripetuti dai telegiornali e dai giornali di regime tutti i giorni cioè abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità bisogna tagliare le pensioni e vedi scorrendo ovviamente le pensioni dei poveri le pensioni della gente comune non certo le pensioni dei ricchi di quelli che hanno diciamo gestito grandi diciamo poteri e anche anche grandi cariche istituzionali e insomma lo scopo è sempre quello è quello di spostare diciamo la ricchezza economica da una parte all'altra ecco perché quando vi dicono questo lo dice la scienza economica dovete stare attenti perché in realtà è una parte di una scienza economica che dice che bisogna fare così c'è una minoranza come me che parla di economia umanistica a dire il vero in italia sono l'unico che da anni parla di economia umanistica se ne volete sentire parlare di economia umanistica potete iscrivervi anche al mio canale e gruppo telegram buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene